Siamo parlando di Megalopolis. Dobbiamo parlare di Megalopolis perché appunto vedo che su Wired una firma che credo di riconoscere ha pubblicato recentemente un... sì è proprio lui. È proprio lui. Gabriele Gnola il 14 ottobre del 2024 ha pubblicato su Wired un'analisi dal titolo Le dimensioni del fallimento di Megalopolis. Il film Megalopolis è un film, il nuovo film di Francis Ford Coppola. No, non è l'ultimo film perché ne ha in programma altre due. Non tiriamo da un po' di Francis Ford. L'ha detto anche lui. Recentemente è passato anche in Italia. È in Italia in questo momento se non sbaglio. Ieri sera era al Cinema Troisi quindi Alice Rohrbacher. Quindi Coppola è in Italia in questo periodo anche perché il suo film Megalopolis è stato la preapertura del Festival del Cinema di Roma. Il film è passato prima ancora come grandissimo film a Cannes ma non ha ricevuto grande... il riscontro che Coppola probabilmente aveva. Si aspettava forse. Aveva in mente. Si aspettava. Io sono molto molto combattuto se farvi sentire il trailer perché... ma sì dai. Allora sentiamo il trailer dura un minuto e 34. Io parto insieme così lo guardo. È il trailer ufficiale. Si, si, si. Inizia con Cattelina... La faccia di Adam Driver. La faccia di... Adam Driver. La faccia di... Pronti. Partenza. Non lasciate che l'oggi distrugga il per sempre. A posto. Già iniziamo così. Megalopolis una fiaba di Francis Ford Coppola. Quando muore un impero... Ma è fatta con la I sta cosa. Forse crolla in un solo terribile momento. Quando ne discutiamo... Stiamo parlando di un'utopia. La faccia a punto interrogativo di Flavia Capone probabilmente... No, ho visto circa 750 milioni di citazioni di altri film, immagini, cose. C'è una densità di attori veramente incredibile. Il film è stato completamente autoprodotto da Francis Ford Coppola e probabilmente potremmo parlare tranquillamente del fatto di... un fatto molto personale di letture metropolitane cioè per quale motivo letture metropolitane non recensisce autopubblicazioni o meglio pubblicazioni tramite editoria a pagamento. Probabilmente proprio per lo stesso motivo per cui... Vabbè, aspetta un attimo. Megalopolis è un film molto debole ma rinforzato da veramente tantissimi fondi. Quindi facciamo un po' più di ordine. Megalopolis è una storia di creazioni di nuovi mondi. Creazione di nuovi mondi all'interno di una nuova New York che si ispira all'antica Roma. Infatti, appunto, come diceva prima Flavia, Adam Driver, il protagonista, si chiama Cesar Catilina. Cesare. Come già mi fa un po' ridere queste cose. Eh beh, se per questo... L'architetto di New Rome. New Rome, esatto. Quindi era da sempre un'idea presente nell'immaginario di Francis Ford Coppola raccontare le dinamiche e anche la politica e anche gli intrighi intestini dell'antica Roma. Ma appunto era affascinato anche di portarla avanti nel tempo. Siamo nel territorio del film Metaforone. è molto palpabile, molto chiaro anche dal trailer, però il fatto di essere completamente autoprodotto, cioè il produttore è quello che mette i soldi e il regista, ma anche lo sceneggiatore lode. Ti stai dicendo che è una grande... No, no, non è... Cosa che sto per dire. Non è una grandissima azione. L'azzo di unalismo? No, 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 potrebbe essere stato... Cioè, avrebbe portato un minutaggio minore, mettiamola così, o comunque una concentrazione su un tema solo. Giustamente Milù scrive, ma avevamo veramente bisogno di un nuovo impero romano? Forse è la spiegazione del perché tutti gli uomini pensano all'impero romano, quella cosa di cui si parlava. Oppure, se facciamo la media, sicuramente Francis Ford Coppola ne pensa molto di più di me. Pensa tantissimo all'impero romano. Come la storia dei due polli, vabbè, lasciamo... dei tre polli. Lasciamo stare, comunque, il Megalopolis è un film che, appunto, racconta la fatica, anche gli intrighi e le ostilità di questo Francis Catiline di affermare una nuova modalità di architettura, di città, una città... Anche un po' i palazzinari di Roma, chissà se si è ispirato. Controllo se c'è un certo caltaggi qualcosa da qualche parte, no. Però, appunto, il risultato è densissimo di attori, mezzi, mezzi probuti, roba, tantissima roba. Troppa roba. No, 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 troppa neanche troppo, perché sono 123 minuti, 138 minuti di tanto, di tantissimo. Quindi è impossibile che il film sia tutto da buttare. È veramente impossibile. Poi, appunto, stiamo parlando di Francis Ford Coppola, che almeno una cosa buona l'avrà imparata in tanti anni. Sicuramente il fattore età e il fattore totale libertà, ma anche e soprattutto zero paletti, zero steccati, ha un po' portato questo film ad uscire dai bordi. I bordi, i limiti, anche le condizioni di scrittura, sono cose utili. Appunto, il lavoro dell'editor è fondamentale per la produzione di un libro. Certo, uno pensa a Francis Ford Coppola, quindi magari sa dove le cose le saprà. È umano, molto umano anche lui. Leggo che il film è stato girato su un palcoscenico a LED, installato nel Prism Stage in Arlanta, Georgia. Tecnologia. È il motivo per cui io l'ho guardato e ho detto, ma che è fatto tutto con l'Ai? No, no, è un'altra cosa. No, nel senso che è molto... È molto... Molto. Molto artificiale. Eh, esatto. Ma molto artificiale perché siamo avanti nel tempo. Giusto, siamo avanti nel tempo, una roba futuristica. Allora, io vi dico soltanto che il personaggio interpretato da Dustin Hoffman è molto importante per un certo momento della storia, ma sparisce dopo pochissime pose. Quindi sono certo che come Dustin Hoffman è stato tagliato al montaggio, tantissime altre persone sono state tagliate al montaggio, ma la densità, ripeto, di attori amici, anche familiari, di Francis Ford Coppola, e saluto da qui Jason Schwarzman, chi coglie il collegamento genealogico ha capito. Ci sono tantissime persone tutte dentro, tutte inserite, cioè Adam Driver, Giancarlo Esposito, sì, quello del Polo Shermanos di Breaking Bad, Natalie Emanuel è la coprotagonista, probabilmente il nome non dice nulla, ma è una presenza, una delle attrici sicuramente più in ascesa. C'è uno Shia Leboff notevolissimo, Shia Leboff incredibile, cambia outfit. Si chiama Claudio Pulcher, ma ragazzi, questa cosa dei nomi gli ha sfuggito un po' di mano. Ma pure la... Scusa, Obriplasa si chiama Wow Platinum. Eh sì, perché è un Anchor Women, una giornalista d'assalto. Ah, quindi è un nome d'arte, Wow Platinum. Insomma, c'è tantissima, tantissima, tantissima carne sul fuoco, ma a un certo punto la carne non ti va più, non vuoi mangiare più questo megalopolis. Stucca. Cioè lo possiamo dire con questo termine, stucca. Stucca anche nelle citazioni. Dice in italiano, stucca. No, forse è romano. All'appa. Una cosa che stucca quando è troppo. Esagera nel gusto. Esagera nel gusto. Va sopra le righe, ma dopo pochissimo. Il protagonista ha dei, tra virgolette, superpoteri, ma non sono più di tanto utili alla storia. Lui sa fermare il tempo, ma è una cosa... Ma perché c'ha dei superpoteri? Che c'entra? Vabbè, non lo voglio sapere. No, 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 ha dei super... Ferma il tempo, ma ogni tanto lo perde questo superpotere. Quindi è... Superpoteri male, un film di Francis Ford Coppola. Il film è devinito e bollato da più parti come un fallimento totale, una roba inguardabile. Non credeterci, sicuramente se siete fan e volete assolutamente guardare prima di parlare, è necessario appunto sottoporsi alla visione di questi 138 minuti di Francis Ford Coppola per sostenere la visione di Francis Ford Coppola di Megalopolis. Francis Ford Coppola è venuto in Italia e tra l'altro appunto bisogna far notare che anche l'Italia ha reagito come l'Italia sa fare, perché, leggo, Francis Ford Coppola nel suo tour di promozione è passato anche per l'Italia. A questo non ha tardato ad arrivare anche Mara Venier. Alla fine dell'intervista, di domenica, domenica in, ha invitato, Mara Venier, ha invitato tutti gli spettatori ad andare a vedere Metropolis. Bello. Che comunque voglio vedere, cioè non è male, andate a vedere Metropolis. di Fritz Lang, molto meglio, di Megalopolis. Che sicuramente. E quindi appunto... Era Cottari, però. Probabilmente ci sarà un'impennata di richiesta al botteghino per Metropolis, meno di Megalopolis, ma tornando al metaforone, sono molto stato incuriosito dalla risposta che all'ADN Cronos, se non sbaglio, Francis Ford Coppola ha dato quando ADN Cronos ha chiesto a lui sulla visione del mondo. e ricevere una risposta del genere da una persona del 39, quindi che qualcosa l'ha vista, anche patita, sicuramente mi racconta il suo privilegio, ma sicuramente mi racconta anche il suo contatto con il mondo, perché sentite cosa risponde Francis Ford Coppola riguardo alla politica estera, la politica, le prossime elezioni americane, insomma, sentite qui. C'è anche la traduzione. Ma io non sono interessato all'America, perché è quello che amminta l'esercito è di salvare questa terra, quindi i bambini abbiano un buon home per vivere. Ma io non sono interessato all'America, perché quello che amminta l'esercito è di salvare e quello che trovo importante è che si diventi, che si debba diventare un mondo unico. Siamo una famiglia umana unica. Viviamo su questa bellissima terra, su questo bellissimo pianeta e i paesi e il concetto, la concezione dei paesi è un qualcosa che ormai è vecchio stile. Siamo un'unica famiglia umana, tutti quanti insieme su questa terra. E l'obiettivo principale è esattamente quello di salvarla. E perché non abbiamo più i paesi, credo, possiamo ancora avere la cultura, possiamo avere la città, 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 la città. Possiamo mantenere tutte queste città fantastiche, ma ridere i paesi, e metteremo un mondo con molti ristoranti e l'arte di tutti i diversi. Voglio perdere la cultura, questo è bello. Voglio perdere tutte le fratture. Siete che prima della World War I potrebbero andare a qualsiasi mondo senza un passparto? Siete questo? No. È vero. E nel momento che non ci saranno più paesi, questo significa però che verranno eliminate, cancellate le culture. Il cibo, l'arte, la letteratura, per esempio la è bella, la buona letteratura russa, le culture, sono qualcosa che io voglio assolutamente mantenere e conservare. non liberarci dei paesi, creare un mondo unico, ma mantenere e conservare le culture, le loro differenze, perché queste invece sono qualcosa di importante e di interessante. Liberarsi degli ultimi. Lo sapevate che prima della prima guerra mondiale era possibile viaggiare da un paese all'altro senza dover possedere e eseguire il passaporto? Molto. Ringraziamo moltissimo. Ringraziamo assolutamente il privilegio di Coppola che era ben presente lì seduto accanto a lui e io direi che la risposta forse più adatta, il commento più adatto è quello che fa Milu, ovvero se l'allero, che in effetti mi pare molto adeguato. Ringraziamo invece Betteist che ha registrato questa conferenza stampa, tra l'altro moderata ammirabilmente, da Francesco Loh, che salutiamo. L'integrale è su Betteist, quindi se volete affrontare e approfondire di più il Coppola Pensiero, oltre a vedere… Diciamo che il senso della realtà l'ha perso un po', Coppola, ammesso che non ce l'abbia mai avuto. Allora, sicuramente il privilegio di vivere in un campo molto largo… non è rispetto al modo in cui è stato vissuto questo set, quindi… No, no, ma sicuramente grande… C'è qualcosa, diciamo, tra di noi… Sicuramente c'era tantissimo rischio e anche grande preoccupazione di Coppola di perdere un sacco di soldi, cosa che è successa. Probabilmente è successa, però credo che ne abbia anche altri, quindi magari casca in piedi Coppola, dai. Megalopolis al cinema da oggi, 16 ottobre, tra l'altro esce un giorno prima in quanto mega… Quanto mega cosa… Ok. La mia mamma, quando mi correggeva i compiti di greco, anzi i compiti di italiano, mi diceva mega biblion, mega cacon… Sì. Dicendo che la sintesi è una cosa buona, quando sbrodoli, quando esageri, a volte fai cose poco… Poco. 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 Una delle cose… Se non lo sai fare, sì. Ma anche se lo sai fare, Francis Ford Coppola lo sa fare, ogni tanto esci dai bordi e Megalopolis è uscito dai bordi. Grazie. Di diverse misure. Una delle cose più particolari, con addirittura dei rimandi a Buzz Lurman, alla visionarità musical di Buzz Lurman, con anche qualche virata verso Terry Gilliam. C'è tantissima roba dentro Megalopolis, ma una delle cose belle di Megalopolis, che è all'interno di questi momenti belli, è la colonna sonora. Cioè, no la colonna sonora, questo brano della colonna sonora, che appunto è anche oltre il minutaggio, perché solo la colonna sonora dura un'ora e ventidue, quindi no, sono quasi simili. Però questo brano di Vesta… Vesta. La Dea. Sì, ma è proprio sull'archivio, si chiama Vesta Sweet Water. Sì. Vesta Acqua Dolce. Suona più o meno… With Water, allora. Sweet Water. Suona più o meno così, No Turning Around. Sì. 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 Sì.